Acclarata la retromarcia dell'assessore provinciale Zeni, che ha annunciato di ripresentare la richiesta di deroga per il punto nascita di Cavalese, anche l'alto guarda Eledro inevitabilmente non deve essere tagliato fuori da questo discorso e non ci può essere una disparità di trattamento. Sarebbe intollerabile, ingiustificabile e umiliante. Che la stessa cosa allora si faccia per il punto nascite di Arco. Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari Mauro Ottobre e Riccardo Fraccaro, assieme al sindaco di Tenno Gianluca Frizzi. Ora anche i sindaci dell'alto guarda Eledro si facciano un esame di coscienza e abbiano il coraggio di andare contro i diktat di partito. Dobbiamo finalmente avere la considerazione che meritiamo come territorio dal governo provinciale, si legge nella nota. Qui c'è bisogno, proseguono i tre esponenti politici, di una riflessione profonda in merito alla disparità di metodo tra Arco e Cavalese sui punti nascita. Ci sembra che nel programma di governo di coalizione e anche dei partiti singoli che la compongono si parla di salvaguardia dei territori e dei loro servizi alla persona e territori. Non si possono spendere 400 milioni di euro per il nuovo ospedale e poi tagliare sui servizi essenziali ai cittadini, concludono. Grazie. 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 Grazie.